Pillon ha detto mi girano le scatole e abbiamo perso per un dettaglio. Qual è l'analisi del Presidente? A me girano le scatole perché abbiamo perso una partita dove nel primo tempo abbiamo giocato male. Non siamo stati in Pescara di sempre, il Benevento diciamo che alla fine la vittoria l'ha meritata. Nel secondo tempo eravamo stati bravi a recuperarla e fin tanto che abbiamo giocato Pescara se la poteva giocare fino alla fine. La partita l'abbiamo sbagliata noi e quindi il Benevento ha meritato, sicuramente non ha ruppato nulla. A un certo punto abbiamo pensato solo a difenderci e con una squadra forte come il Benevento prima o poi il gol lo può prendere. Ci siamo tirati indietro, ci siamo difesi e poi è vero che abbiamo preso un gol balorto perché c'è stato un nostro giudatore che si è perso completamente la volta, però sicuramente se tu ti metti là dietro prima o poi il gol lo può prendere. Anche perché ripeto stiamo parlando di una delle corazzate del campionato. È oggettivo questo calo vistoso in presenza dell'Atriatico Giovanni Cornacchia. Ma il Presidente Sebastiani si sta ponendo la domanda del motivo per il quale la gente non viene più allo stadio? O ne viene sempre di meno? Ma io credo Massimo, io credo che al di là della situazione dell'unità per via verso il Presidente, credo che oggettivamente Pescara sia una città come tante altre che offrono tante cose e non solo il calcio. E quindi mentre in piazza è dove non c'è nulla e c'è solo il calcio, la gente la domenica aspetta la partita per passare la mezza giornata, a Pescara c'è tanto altro da fare. Quindi a meno dei momenti, a meno di quelli che sono sempre con noi, perché anche oggi a Benevento c'era un bel gruppo di tifosi che hanno seguito la squadra e a meno dello zocco duro che ci sarà sempre all'Atriatico, gli altri arriveranno quando ci saranno le belle giornate e se la squadra continuerà a fare bene. L'anno di otto, se guardiamo i numeri, perché poi noi guardiamo i numeri, la gente è arrivata allo stadio quando noi, non vi dimenticate che dopo termini allo stadio eravamo in 25. Sì, col como in casa, questo me lo ricordo. La gente è arrivata, come sempre, quando c'è da condividere qualcosa di bello, sono contento di quelli che vengono sempre e che aiutano la squadra. Anche oggi l'hanno dimostrato. In resto, dobbiamo essere noi bravi a fare bene. Poco fa ha chiamato un telespettatore, credo che si chiamasse Luca, mi pare, che ha espresso la sua opinione in modo, devo dire, molto civile. E ha detto, non c'è fiducia in questa società perché manca un progetto. Per carità, ognuno può dire la squadra, ci mancherebbe. Perché il progetto non c'è mai stato nella storia del calcio. Si è sempre tirato a campare, hanno fatto prima di noi le promozioni quando non c'era neanche l'acqua da bere, con 20 ragazzotti, con Galeone che è arrivato, che non lo conosceva nessuno. E oggi si parla di mancanza di progetto di questa società. A me mi viene da sorridere perché la gente forse si dimentica, Gelsi e Michele sicuramente è testimone, ma il Pescara andava in giro per l'Abruzzo per trovare un campo per allenarsi. È vero. Noi abbiamo un centro sportivo invidiabile, abbiamo un convinto dei ragazzi che fa paura, abbiamo un settore giovanile che è il nostro fiorello occhiello, abbiamo la primavera che è il primo in classifica e noi non abbiamo un progetto. Eserciterete la clausola per la conferma di Pillon? Ma questo lo vedremo, non è questa la cosa importante oggi. Oggi la cosa importante è... No, perché scadrebbe uso il condizionale a fine febbraio, ci siamo. Ma l'unica cosa che scadono sono gli yogurt, non è la clausola. Il Presidente ha sempre detto, così come ha detto l'allenatore, che questa non è la cosa più importante. Al momento la cosa importante è continuare a fare bene, a non abbassare la guardia, perché questa è una squadra che sicuramente non è all'altezza delle tre o quattro corazzate del campionato. Questo non si sapeva. Che può sopperire a questa mancanza con l'impegno, con la volontà. Se ci crediamo troppo belli, probabilmente non andiamo da nessuna parte. Allora, se i ragazzi... Ma oggi ha sbagliato più l'atteggiamento la squadra o ha più la prestazione? Ma io credo che nel primo tempo ha sbagliato tutte e due le cose, perché l'atteggiamento non mi è piaciuto per nulla e la prestazione nemmeno. Però, ripeto, poi c'è anche l'attenuante della doppia partita, però anche su questo noi siamo 26 giocatori, quindi se c'è qualcuno che è stanco si può anche cambiare. Io credo che ci sono tutte le possibilità per cercare di ripartire già da Domenica contro Spezia, che secondo me tra le tre partite è quella più difficile, perché la Spezia è una squadra ben allenata, guidata da un allenatore molto bravo che gioca a calcio, e quindi sarà una partita molto difficile.